Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere qualche decorazione natalizia. Parto dall'angolo del presepe, che è qui nell'ingresso. Questo è un presepe fatto da me, è un po' un presepe a due piani. Scusate se ho il delirium tremens mentre riprendo. Comunque c'è questa fontanella, insomma questa pompa dell'acqua con l'acqua vera. Qui sotto c'è la casetta, c'è la grotta, insomma, di Gesù Bambino con l'angelo. Poi c'è un po' qualche scorcio di paesaggio montano con un falegname, un mulino, un ponte sospeso con sopra un'occa, credo, o un'altra bestia simile. Un pastore che dorme. E poi, sopra, abbiamo qualche altra scena bucolica. Uno che fa il pane, i polli, il ragazzo dei maiali. E questa casetta fatta da me con dentro qualcuno che fa qualcosa di non ben identificato. Questo è l'albero che ho nell'ingresso. Prima ho fatto arrabbiare i cani con il flash, quindi adesso abbaiano. Questa è la porta d'ingresso. Questa è la mia casetta vista da fuori, con i babbi natale, la scritta buone feste, la stella cometa, la renna e una finestra con le ghirlande. Questo è un piccolo alberello di 40 cm che c'è fuori. Poi, tornando all'interno, c'è questo, che è sempre nell'ingresso. Poi c'è quest'altro albero, che è alto 1,80 m. Poi c'è questo, che è in salotto, che invece è alto solo 90 cm. Questo è un piccolino, tanto per gradire. Poi c'è qualche altra decorazione. Ebbene sì, ne ho uno anche in bagno, alto 30 cm. Buone feste a tutti, grazie, vi mando un bacio, ciao!